Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Allora, forse sono io che sbaglio a preoccuparmi, a pensare che in Italia ci siano ancora i fascisti o comunque gli anti-antifascisti. Forse ha ragione chi dice che alla prima della scala il loggionista Marco Vizzardelli avrebbe dovuto semplicemente gridare viva l'Italia, in fondo quella giunta antifascista suona persino superflua, considerando che l'antifascismo è il valore fondante della nostra comunità nazionale. Ho persino provato a buttarla sul leader pensando a quel polizzotto della Digos che non avendo il telefono funzionante chiede all'identificando di auto-identificarsi, gli dà il proprio numero di telefono privato o secretato, chi lo sa, e gli chiede di mandargli la foto della sua carta di identità, come si fa fra amici. Insomma, alla fine mi ero quasi convinto di avere esagerato e che avesse ragione chi durante la giornata di oggi mi aveva scritto che ricordare ancora che l'Italia antifascista è un vezzo polemico, non più necessario, qualcosa di scontato, come gridare viva la mamma. Poi però, poi apro un sito e vedo una foto, questa. Al cineteatro Biotto di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, trasmettevano un film su un eroe fascista della Seconda Guerra Mondiale e alcuni spettatori, tra cui un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, si sono seduti in prima fila vestiti così, come avete visto. Allora mi viene il dubbio che forse non ho esagerato, allora forse vale ancora la pena dirlo. Anzi, sapete che faccio? Lo dico. E nel dirlo mi identifico, bisogna fare così, estrargo, ecco vedete qui ho la carta d'identità, sono Massimo Gramellini. Viva l'Italia antifascista. In altre parole, Roberto Vecchioni. Ma sì, certo! Non mi trattare così! Certo! Non mi maltrattare, lasciate un copione là, torno. Dove vai? Non c'è l'amico. E mi sono emozionato. Non è arrivata la Dicos, non ti preoccupare. Mi sono emozionato di beccare. La Dicos non è arrivata.